Sì, sono particolarmente contenta perché io sono non solo natia di Portici ma continuo a vivere nella mia città. Ho fatto una scommessa molti anni fa di restare a casa e vedere come andava e devo dire che non mi posso lamentare. Quindi essere premiata nella propria terra è sempre un valore aggiunto per chi come me decide di continuare a viverci. Cosa pensi di eventi come questo, anche come Volano, per la diffusione e la realizzazione sempre più di prodotti audiovisivi nella nostra terra? Beh, è importantissimo perché a parte che abbiamo location come questa che sono belle già di loro, il castello qui di Castellammare è veramente fiabbesco. Quindi anche l'ospite che viene da fuori si trova in un mondo completamente diverso ed è giusto che la regione spinga questo tipo di iniziative perché insomma il cinema è importante e la televisione è importante anche economicamente.